Ciao a tutti, questo è Filgom e oggi siamo tornati con un altro video per GDT e parleremo sull'Arena. Usualmente alla fine di ogni sezione, alla fine di ogni settimana, potrei essere classificato in colo, in diamond 1 o in top 100 e in arena in diamond 2 o in diamond 3, perché non riusciti ogni volta in l'Arena, ma solo una volta. In questa scelta, vi farò sapere il team nella descrizione, vi farò tutte le caratteristiche del team, il mio team, l'arma e così via. Nella prima scelta di oggi, avevo un summoner che non giocava, che ha dato un vincente gratis. In questo caso è importante non perdere il tempo dell'opposizione per cercare qualche box, che ti dà solo 10% più attacchi, e in questo caso va direttamente, grazie all'opposizione che mi ha dato un vincente gratis. Questa scelta è in platinum 1, e questo è il mio team, quindi Barry, Future Princess e Marina. È bene avere un mix di team, non tutti i componenti del team hanno il stesso elemento, perché è importante cercare di pensare contro ogni team e di essere balanzati contro ogni team. Ho trovato che la maggior parte dei team sono in questa meta, formata da Future Princess e anche Nari. Nari, per il mio team, è uno dei migliori opponenti che posso trovare nella arena, perché è molto forte contro la Future Princess e il Barry, che sono i miei due main. io uso Marina a fine, per tankare gli ultimi opponenti, se di nuovo. Quindi, per esempio, qui la strategia è di cercare di essere aggressivi e evitare la spazio di Nari, è una scelta. Ma con Marina abbiamo un'avvento di elementi, quindi possiamo usare la spazio di Nari, cerchiamo di stare vicino a Nari, se non ha la specialità, in questo caso abbiamo usato la nostra specialità per fare una scelta. Ok, ogni giorno abbiamo un totale di 10 combattanti che possiamo fare nell'arena, e nel questo caso ci sono 5 combattanti. in questo caso ci sono anche i nuovi eroi, Bet, contro noi, che hanno avvantaggi contro... è un buon counter contro il mio team, ha una forte abilità speciale. e qui, con le altre princessi, cerchiamo di restare così vicino a Nari. Ma come la maggior parte dell'oponente, nell'arena, gli opponenti intende a riuscire in circolo. qui abbiamo la futura princesa contro la futura princesa. Un piccolo trucco con la futura princesa è cerchiamo di usare la spazio di spazio di spazio, per aiutarci, quindi abbiamo esp�utato armi e usando la skillsazione di spazio Oggi poi, cioè in questo caso, mi sono in una verità situazione con un' activismista a metà sempre. Erano di giud olacakio, come puoi vedere qui, quando la futura princesa usa il attacco speciale, cerco di riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire qui vedo che il mio obiettivo è ancora riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire un po' di attacca per la ultima combina questo è Bari e con Bari la cosa più conveniente da fare è cercare di evitare l'attacco speciale o restare molto vicino da lei ma poi potrà riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire ma questo non è molto facile da fare usualmente Bari contro Marina è un vincente per Bari in questo momento ero 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 parte della terra speciale attacca, ma contro Renari non ci sono possibilità per Varie. Quindi vedo che la maggior parte della meta è con la princesa Fiori, non vedo molto Garam, uno dei ultimi fiori fiori in l'arena, perché ha molti attacca ma non ha un lock di difficoltà e l'hp. Qui con Nari una tecnica è di cercare di rimanere come possibile da lei quando lancia l'attacca speciale, ma di nuovo Nari contro la princesa Fiori è molto difficile. E ora abbiamo una situazione simile alla precedente con Nari e Marina per l'opportunità e solo Barie nel nostro caso. Solo Marina, scusa, vivo nel nostro team. E poi siamo la metà della testa. Ma Marina contro Marina è importante usare come possibile l'attacca speciale, sicuro che si è arrivata e usate la skill Jane in order to let the enemy down. In this case we were the first to use the special attack and so we also we be able to complete and complete this fight with a win. So we are right to the last matchup of today showcase. the main heroes that you can find also in the arena are Oguma or the new hero Beth, most of the most of the people have Nari or Barie or Marina. So in this case we stay closer to the opponent, then we go back to try to gain some space. the special attack of Barie. You will gain the special attack before Future Princess but in this case we missed the attack because Future Princess used the attack on us. And we are in trouble right now. in this case the enemy tried to run from us. We had luck with this shot because it landed. And now again against Nari. the strategy between the different map are almost the same but the other map that you can find in other seasons can be different because there are some place where you can try to catch the enemy and make them back him to be in a hedge and try to attack him. In this case we use the diamond because we have five seconds left and we have more life and HP of the opponent. marina against future princess. It is usually a win for marina. But you can win also with future princess. And here we have again marina against marina. So use the special attack. Try to avoid the special attack. you can see that under the hero. You can see that under the hero there is a bar that is usually red and then when your skill is charged is blue. So you can avoid the enemy special attack. In this case we had a lot of advantage of HP and we use again the time to win also this fight. So in this showcase we had the five wins and we gain the tire diamond. So this is what I got guys thanks for watching. Leave comment in the section below if you want to see more and you want to see to have a particular focus on some heroes or some fights in the arena. And thanks for watching. See you in the next one. I'm going to see you in the next one.